Buongiorno a tutti, ovviamente tempo permettendo vi presento questa villetta centrale, ci troviamo in Viana Spezia, è una zona vicina a Via Vignolese, è una strada chiusa. L'immobile è da ristrutturare, ovviamente potrete avere tutte le informazioni per il bonus fiscale in nostro ufficio. Ci troviamo nel giardino, entra direttamente nel garage, ora seguitemi che vi presento la casa. Poi ci troviamo nel garage, come potete vedere è molto molto ampia, è all'incirca 35 metri, c'è l'accesso diretto all'abitazione e anche sul giardino. Qua ci troviamo nel primo piano, abbiamo un'ampia zona giorno, composta da sala, spara da pranzo e cucinato separato, bagno, tre parti finestre, infatti con storia molto molto luminosa e due balconi. La casa è all'incirca 80 metri per piano. Grazie. Qua ci troviamo nella zona notte, che è composta da tre camere da letto, di cui una matrimoniale e due singole. Bagno grande e c'è il parquet in tutte le camere. Grazie. 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 La manzarda è molto bella perché c'è un cammino e un solario bellissimo che adesso vi farò vedere. Ci scusiamo solamente un po' per il disordine. Venite pure. E anche per il clima.